Buongiorno a tutti. A pochi giorni dall'apertura della funzione sul portale istanze online del Ministero dell'Istruzione si ravvisano già numerosissime domande di inserimento o aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il personale ATA della scuola statale. Tuttavia si registrano alcune criticità nel bando ed in particolare nella tabella di valutazione titoli. Una tra queste riguarda una questione che risale già nel tempo, ossia la mancata previsione della valutazione dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale. In effetti già in passato questo problema si era verificato perché il Ministero tramite le scuole Polo dove venivano indirizzate le domande di aggiornamento delle graduatorie d'istituto inizialmente avevano valutato questi servizi attribuendo il relativo punteggio, salvo poi ritornare sui suoi passi e rettificare i punteggi togliendo la valutazione di questi servizi con la conseguente revoca dei contratti a tempo determinato nelle more stipulati. Anche in questa edizione della tabella di valutazione titoli legata al DM50 2021 non si evince una chiara valutabilità di questi servizi e sicuramente il Ministero si orienterà per non valutarli. Tuttavia la giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi su questa vicenda anche recentemente ha evidenziato che detti servizi meritano di essere valutati anche nelle graduatorie per il personale ATA in quanto i servizi prestati presso gli enti di formazione professionale sono equiparabili ai servizi prestati presso gli istituti scolastici. Tenuto conto che gli enti di formazione professionale costituiscono uno degli assi portanti insieme alla scuola secondaria del secondo ciclo di istruzione. Quindi è molto dubbia la possibilità che effettivamente il Ministero riconosca la valutazione di questi servizi visti i precedenti negativi di molte scuole polo che si sono rifiutate di assegnare il punteggio o hanno addirittura rettificato. Per cui consigliamo a quanti hanno maturato in passato servizi presso gli enti di formazione professionale di dichiarare comunque questi servizi in seno alla domanda di inserimento o di aggiornamento e contestualmente impugnare l'IM50 2021 e la relativa tabella di valutazione dei titoli laddove non prevedono espressamente la valutabilità di questi servizi. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.